ciao a tutti allora ragazze mi sono resa conto che praticamente siamo tra un po' a fine giugno e io non avevo fatto il video sui preferiti di maggio sono no poche le cose di più, veramente pochissime ma anche perchè comunque in questo periodo non sto usando chissà quale make up particolare insomma sugli occhi lo vedete stamattina ho solo un velo di mascara e niente sul resto del viso comunque molto semplice vi dirò di più che oggi non ho neanche il fondo cioè non ho neanche il fondotinta ho solamente un velo di cipria che fa veramente caldo allora diciamo che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prodottini sicuramente mi dimenticherò anzi prima che mi dimentico di questa cosa non mi ricordo se l'avevo messa tra i preferiti questa matita che è il matitone quello molto cremoso di Kiko la numero 15 questa qua sto indietro perchè sennò con il sole fa riflesso allora io mi ero trovata benissimo con questi matitoni fatto sta che questa l'ho praticamente finita solo che cosa mi è successo? io sinceramente non l'avevo associato alla matita ogni volta che usavo perchè non la uso più questa matita che praticamente è quella che ha dei glitter perchè ci sono anche quelle nude diciamo senza glitter ogni volta che usavo questa matita il giorno dopo un paio di giorni dopo mi venivano delle squamme sulla bocca come se avessi preso freddo sapete quando magari fa freddo e magari ti passi la lingua sulle labbra avevo le labbra completamente screpolate ma anche qui ai lati mi venivano delle boccaglie pazzesche sinceramente poi mano a mano insomma anche usavo questa matita mi è capitato un giorno di stopparla e effettivamente anche perchè stavo con le labbra in quelle condizioni quindi mettevo solamente un po' di burro cacao non appena la riprendevo mi si riproponeva il problema quindi io praticamente una volta che ho finito la matita mi sono resa conto che mi dava questo problema allora io non so se magari tanti di voi magari l'hanno già provato e non hanno avuto questo tipo di reazioni però mi farebbe piacere sapere da voi se qualcuno ha usato quelle glitterate che dietro hanno proprio dei brillantini per capirci se magari anche loro hanno avuto questo tipo di problema per vedere se è una sensibilizzazione mia della pelle delle labbra o se è proprio magari questo tipo di glitter che c'è nella matita che dà questa reazione quelle nude semplici non me l'hanno dato però questa mi sono resa conto che mi dà questo problema questo ho detto la numero 15 vabbè fatemi sapere poi andiamo sui preferiti allora il primo preferito assurdità delle assurdità è stata questa dream nude mousse che io già vi avevo parlato in un altro video non ero particolarmente entusiasta di questo fondotinta non sono entusiasta neanche adesso però devo dire che per questo periodo mi è piaciuta di più nel senso che io usavo la BB cream e l'ho usata fino a qualche forse una settimana fa solo che ultimamente forse il gran caldo che è arrivato mi dava la sensazione di avere la pelle molto pesante stranamente e poi io ne metto veramente molto poca comunque la pelle è molto pesante e mi si era dilatata moltissimo la grana della pelle quindi ho detto vabbè proviamo con questa dream mousse perché essendo proprio una mousse quindi mi va a coprire molto leggermente molto leggero mi va a coprire molto leggermente quindi ho provato questa e anche con due passate di dream mousse l'esplosione è migliorata quindi forse è veramente molto più leggera e forse proprio per questo caldo magari questo periodo dell'anno magari un pochino più adatta alla mia pelle la BB cream me l'ho leggermente accantonata anche perché non lo so ultimamente non lo so perché mi vedevo troppo scura forse perché non sono abbronzata sul resto del corpo quindi le braccia le avevo molto chiare la BB cream mi dava questo effetto leggermente colorato un po' più scuro della mia carnagione naturale quindi si vedeva un pochino lo stacco quindi magari l'inverno si è coperta ti dà un bel colorito insomma fino al decolte ma poi sotto non si vede d'estate si vedeva un po' questo stacco quindi questa qua devo dire che in questo periodo dell'anno diciamo che è tra i preferiti del periodo insomma poi che cosa ho preso? allora tra i preferiti in assoluto io in questo momento sto usando tanto questo rosa è il rossettino della CN che ho preso alla Lidl Lidl, Lidl come si dice non lo so e CN questa marca qua e veramente mi sono ricreduta perché ho anche sbagliato che ne ho preso uno perché sono tornata e non c'erano più ci hanno preso soltanto due cioè un rossetto per 1,90 euro ha una texture morbidissima non dà quell'effetto matte del rossetto però ha una durata veramente buona nel senso che comunque per essere un rossetto molto cremoso che dà quasi l'effetto gloss io addirittura ci ho mangiato ci prendo il caffè il transfer cioè sulla tazzina si vede però mi rimane moltissimo sulle labbra quindi comunque questo lo metto tra i preferiti perché mi è piaciuto tanto 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 e questo è il numero 1 il floral pink tanto lo sboccino già ve l'avevo fatto non so se riesce a vedere qualcosa non vedo l'ora di comprarmi la videocamera nuova poi prodottino allora non è un prodotto è un pennello perché mi sono resa conto che forse tra i miei preferiti c'era solamente quello di Essence ed è il classico pennellino angolato questo era del mio kit della Froyland è questo pennellino angolato io praticamente sarei morta senza questo pennellino perché ci faccio tutto cioè a parte la riga di eyeliner ci tampono l'ombretto per farlo aderire di più lo metto dentro la rima interna dell'occhio ci faccio l'angoletto esterno per dare un pizzico di che insomma per far sembrare per far sembrare le ciglia leggermente più lunghe quindi devo dire che questo pennellino che faccio non lo so faccio tre ore così e si vede in cacchio allora questo pennellino mi è piaciuto proprio tanto 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 amore di mamma loro opi poi un altro prodotto buonissimo mi voglio sbrigare perché sennò va a finire che mi scade il tempo qua è un mascara della Debbie 100% color mascara ed è questo mascara qui che è lo 01 green e sicuramente se sono ancora in offerta li devo prendere c'è anche viola e blu questo è quello verde appunto ha uno scovolino di quelli che piacciono a me ultra cicciotti il prodotto dentro è pieno 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 zeppo che io addirittura devo pulire lo scovolino perché è veramente tantissimo dà un effetto luminosissimo e si vede moltissimo il verde cioè il colore verde si vede questo qua e mi è piaciuto proprio tanto 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 e l'ho pagato intorno ai 2 euro non di più e sono 12 ml di prodotto made in Italy quindi buonissimo sei mesi dopo l'apertura quindi non tre come dicono di solito questo qua 01 green della Debbie mi è piaciuto proprio tanto 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 poi bonch ho comprato la prima cosa in un negozietto di make up che non sia chico e ho trovato da It Style questo illuminante buonissimo perfect cream waterproof addirittura però chi labbra e guance ed è questo It Style It Style che cacchio c'entra It Style 6,5 ml di prodotto quindi è tantissimo dentro sempre made in Italy ragazze e se volete potete andare a vedere anche su www itstylemakeup.com allora il prodotto il colore è questo volevo vedere se c'era il numero ma non riesco a vederlo qui c'è ah l'11 il colore 11 che è una sorta di dorato champagne bellissimo io lo uso tanto io l'avevo preso per metterlo proprio sulla palpebra ma non mi piace l'effetto quindi lo uso tantissimo sull'arcata sopraccigliare qui all'inizio del naso e leggermente qua sotto un po' sulle guance e ripeto col fatto che è un waterproof io sicuramente ve lo vorrei far vedere in modo adeguato ma sicuramente lo vedrete più nei miei video quando lo porto chissà dove sto andando con questa mano vabbè comunque ha un colore veramente bellissimo e si stende sembra sempre che fate un po' di fatica a stenderlo però devo dire a parte adesso si sta sbagliando però una volta presa la mano mi conviene andare molto piano mettere poco prodotto e poi continuare insomma questo qui è il colore che mi piace di più in assoluto heat style numero 11 è un illuminante buonissimo poi ripete waterproof quindi insomma ci piace poi gli ultimi due prodotti sono questa crema manica e dell'erboristica all'olio di mandorla 0% siliconi senza parabeni 0% oli minerali 0% coloranti sintetici 75 ml ed ha un profumo poi c'è scritto bio qua on my laboratory e lascia le mani a parte morbidissime anzi me la metto anche ragazzi è una crema ha un profumo buonissimo di mandorla ma è una di quelle creme che si assorbono molto facilmente però lasciano la pelle molto molto idratata quindi per questo periodo dell'anno insomma per questa stagione è anche molto indicata perché magari la glisoli della nevia sono belle ricche quindi magari non si assorbono subito devo dire che anche per l'inverno è buona io per l'inverno come come si dice per vedere effettivamente gli effetti sulla screpolatura non lo so però il fatto che è di facile l'assorbimento è buona perché magari una si mette la crema deve guidare ed è facile insomma è comoda più che altro però mi è piaciuta molto la sto usando anche per lavorare veramente perché tante soprattutto agli uomini non piace sentirsi le mani sempre appiccifose mentre l'ultimo prodotto di cui voglio parlare è una di queste cremine dell'HQ che mi piacciono molto perché comunque sono richiudibili quindi le trovo molto pratiche e questo gel correttore di pori che copre l'imperfezione e mimitizza i pori dilatati allora effettivamente non è miracolosa però effettivamente mi dà quella sensazione di pelle leggermente più più compatta ecco ne metto veramente molto poco e la picchietto leggermente ripeto qui scusate ragazzi mi sono un attimo impallata perché è la terza volta che giro questo video e praticamente qui c'è scritto che la si può mettere sia prima che dopo il fondotinta la dopo il fondotinta insomma come si fa a mettere sopra una crema che verrà fuori un pastrocchio quindi io comunque la metto prima del fondotinta niente la picchietto leggermente poi applico la mia base insomma quello che sia e mi è piaciuta veramente tanto 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 quindi comunque anche questa la metto tra i preferiti di maggio poi comunque c'è scritto che i principi attivi ha estratto attivato di liquirizia vitamina E lipo aminoacidi microsfere perfezionanti quindi insomma voglio dire anche questo non è ah poi c'è scritto che opacizza quindi effettivamente un pochino opacizza è vero e mi piace non fa miracoli ripeto però se dovessi consigliarvela ve la consiglierei tranquillamente insomma se non avete una pelle super grassa ecco per le pelli grassissime non è indicata prima che mi dimentico una cosa che vi voglio dire di questo correttore della heat style l'unica cosa che boccio praticamente è il packaging perché avendo questa scatolina che insomma come voi sapete metterci le dita dentro comunque non è particolarmente igienico ecco poco male tanto io lo uso comunque in casa però il problema è che quando si va a infilare il dito io ho le unghie molto lunghe e il prodotto si va a incastrare sotto le unghie quindi lo trovo di uno scomodo incredibile ho provato a metterlo anche con il pennellino sinceramente però non mi piace l'effetto secondo me l'illuminante va preso con le dita tipo alcuni ombretti vanno presi con le dita e messi con le dita come l'ombretto in crema diciamo ecco quindi l'unica cosa che boccia è questo packaging così quindi se insomma se lo cambiano forse è un pochino più pratico cioè tipo quelli nella penna stick o anche tipo il tubettino del primer per gli occhi diciamo già fai un piccolo tubetto lo spremi lo prendi e usi quello che ti serve così è veramente molto molto scomodo e niente ragazzi è tutto qua i miei preferiti per questo mese erano questi e ragazzi scusateci sono dei pollini che girano sto postendo da due ore niente ragazzi ci vediamo al prossimo video seguitemi su facebook perché stiamo crescendo piano piano dai che ci divertiamo e vi lascio sempre il link un link un moscerino il link sotto il box informazioni e grazie 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 un bacio a tutte ciao 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 Grazie.